L'assessore regionale al territorio e all'ambiente Elena Pagana si è regata in visita a Mistretta per verificare la situazione in cui versa l'area attrezzata del laghetto Quattrocchi e regarsi ai musei delle tradizioni silvopastorali e della fauna dei Nebrodi. Accompagnata dal sindaco amastratino Sebastiano Sanzarello e dal commissario straordinario del parco dei Nebrodi Giovanni Cavallaro, l'assessore Pagana ha potuto constatare come l'area del lago Quattrocchi si trovi in condizioni di abbandono ed incuria, frutto di anni di gestione poco oculata e di atti di inciviltà e di vandalismo. Un luogo che si trova nel cuore del parco dei Nebrodi e che meriterebbe quindi di essere rivalutato e mantenuto con il giusto decoro. Il senso di questa mia visita è anzitutto guardare dal vivo e toccare con mano le potenzialità di questo territorio che lo sappiamo sono tante e chiaramente a seguito di un'attività di confronto e di studio e approfondimento che verrà stiamo trovando le soluzioni migliori proprio per mettere a frutto tutto questo potenziale e dare un senso a tutte queste bellezze che sono troppo nascoste. Puntare su determinati luoghi all'interno del parco dei Nebrodi, ma questo rientra in un lavoro che già stiamo facendo con tutti i parchi regionali siciliani, individuare le priorità e poi sicuramente dare all'ente parco gli strumenti necessari per poterli gestire e quindi trovare la soluzione migliore affinché questi luoghi siano gestiti. Nei due musei l'assessore Pagana ha potuto apprezzare l'offerta culturale ed espositiva e per questo l'incontro odierno mira a un vero e proprio rilancio di questi luoghi che sono una vera e propria attrattiva da far scoprire e valorizzare. Stiamo pensando di valorizzare insieme all'amministrazione comunale che ci è particolarmente vicina queste due realtà che abbiamo ammistretta per quanto riguarda il parco dei Nebrodi. La stessa presenza dell'assessore Pagana ci porta a avere fondate speranze di poter riuscire in questo nostro intento, soprattutto nell'idea di rendere a fattor comune tutto ciò che c'è all'interno del territorio. Soddisfatto della giornata anche il primo cittadino Sanzarello che dichiara Credo che sia rimasta estremamente soddisfatta, credo che sia motivata a esserci vicina conoscendola da tanto tempo sono convinto che manterrà impegni e ci sosterrà con tutta la sua forza di assessore regionale.